Ma chi è Michelangelo? Eh, ma è proprio Mario Lloyd! Sì, sì, il suo sapore lo riconosco! Mmm, ma quanto sei scema! Maronna Michele 089! Sì, chi le c'è sta? Michele Luca Pucchione, Michelangelo... Ma chi è Michelangelo, scusa? Maronna, come? Michelangelo è brillante, non lo sai? Eh, Michele... Ah, pure Michele è quello lì! Vi faccio vedere io allora a mercoledì cosa vi consiglio! Mmm! Ah, e sapete cosa vi dico? Ora è 20.45! Che è? Ah, come mi siete permesse! Mercoledì me la farò pagare! Sì, sì, voglio... Sapete che vi dico? Ti me ne vado! Fammi sento, che tisci! Mercoledì mi sputtano tutti su 089!